Buongiorno ragazzi, allora oggi ho deciso di documentare il mio primo giorno di mare però in realtà non è solo il primo giorno di quest'anno ma in realtà sono tipo due anni che non vado al mare perché? Perché l'anno scorso che era scoppiata tutta questa pandemia ovviamente non siamo andati al mare ma anche perché comunque come sapete ho avuto dei problemi di salute quindi non potevo diciamo andare al mare però quest'anno anche se con un po' di ritardo siamo alla fine dell'estate ho deciso appunto di andare al mare almeno passo una giornata diversa dal solito Buongiorno ragazzi, allora ho deciso di andare al mare sono tornata un secondo fa praticamente ragazzi allora mentre facevo ginnastica ho avuto un malore sulla spiaggia credo che sia normale visto che è un periodo che sto debilitata e dobbiamo vedere da che dipende io mi vado a fare una doccia quindi ragazzi video fermi acqua